Grazie 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 che davvero è un po' di scuola non mi sembra con me che la recensione in realtà è solo per le razze autocrine e all'anno voglio dagnare più o meno 150 euro a peccola se io in un anno 150 euro a peccola non per le un'altra parte tutto questo non è che l'Italia non dà che il dirai è più a 100 euro non c'è nulla in Italia non c'è nulla in Italia non c'è nulla in Italia c'è nulla in Italia in Italia all'altra in Italia rispetto al doppiano devi vedere vuoi conto di una volta away giro a destra stop guarda vuol dire a c'è dopo il giro sicuramente vanno a destra ancora passi se tu metti il cane a destra di qua ti fai tra un paura avanti la metti il cane a sinistra e poi tra un paura avanti la destra quindi riesci a mandare dove vuoi così si fanno vicino alla prossima poi non è un po' di più non è un po' di più ma è un po' di più grazie c'è mesi mesi si sai già fare che sei bravo poter preparare senza il cane in più o meno di due anni se il cane non è predisposto ti ci vogliono quasi due anni e mezzo se non le mani non sollevano l'esperienza se non sollevano mai ma soprattutto deve l'alberta per voi perché sono il progetto per voi spesso si subito non è appena perché mi sopito perchè lo toglie la ta sono la stessa razza io ho la una rossa Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Che bello. Che bello. Perchè la tua proposta. La ponte. Che bello. Non è normale. Non è così. Non è così. Non è così. L'ultima cosa è così. Grazie. Grazie.